Ti volevo narvi una spiegazione. Quello di prima è stato praticamente un filmino muto perché avevo paura di disturbare la squadra che era qua a fianco a noi. E anche un po' per adeguarci al livello in cui comunque poi fondamentalmente giochiamo. Perché la scena mia è stata più o meno dello stesso livello della serie in cui giochiamo. Allora, anche stavolta ce l'abbiamo fatta ragazzi, ci sono parole sulla trasporta, siamo arrivati macchine di tutti i tipi, di tutte le qualità. Avevamo il tom-tom, un pallino blu che è andata, andava, andava, andava. A un certo punto è sparito tutto, ci siamo trovati in mezzo a un prato. Ci abbiamo messo, ci abbiamo messo, mezz'ora ad arrivare alla piscina. Volevo concludere con una cosa ragazzi. Abbiamo vinto il 10 a 5. Volevo ringraziare Baravino per essere venuto comunque, nonostante la squadra. E volevo ringraziare Psaico, non che il signor Marco Guarnieri, che apparentemente guarito, come ho detto l'altra volta, sta per ricordare in basso. Ne vedremo delle dalle ragazzi. Io oggi gli ho visto gli occhi assettati di sangue, di sangue, che rimangono a quattro a noi ragazzi. Massimo a fine di aprile, ciocca di nuovo come una mamma. Questo è lo scoop ragazzi. Io vi saluto dalle volte.